Sciporia, il paese delle aquile Una terra ricca di tradizioni e bellezze naturali Con spiagge ed acque cristalline Dove Oriente e Occidente si incontrano in un insieme di culture In equilibrio L'Albania, terra messa alla prova da una storia difficile Negli ultimi anni sta seguendo un rapido percorso di sviluppo Mantenendo però i propri tratti caratteristici Con noi potrete scoprire l'Albania In un viaggio di otto giorni che vi farà conoscere Tirana, la giovane capitale Lui, città natale dell'eroe nazionale Scandinavia Con il vecchio bazar e il suo artigianato caratteristico Berat, una delle città più antiche dell'Albania Oggi patrimonio delle mesi Le rovine di Putrina Un sito archeologico da non fermi La sorgente carsica di Suri Calter Non mancheranno i giorni di relax Nelle bellissime spiagge di Verme, Vlora, Saranda Durante il soggiorno sarete seguiti da un accompagnatore che parla in italiano Che vi farà gustare l'ottima cucina e la cortese accoglienza albanese Partecipando a un viaggio solidale Sosterrete il progetto di Tartan Onlos et Istitut Istitut è un quartiere povero della periferia di Tirana Dove da due anni è in corso un progetto per aiutare i bambini Che si trovano in una situazione di forte disagio Noi,gl нормально It's Sofamati Un'altra Allora Un'altra 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 Matteo! Matteo! Venite in Albania perché ci sono molte persone, come l'Institut, che hanno bisogno di aiutare, che vivono nelle condizioni troppo bene. Prego di venire a Dermin, Albania, a vedere la nostra costa, è bellissima, piena di mangiare, il mare, l'aria, è tutto bello. Venite in Albania. Venite in Albania perché è un bel posto. Mi raccomando che questo è un posto bellissimo, perché c'è tanto cambiamento, c'è bella clima, brava gente sfruttata. Venite in Albania. 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 Sono posto bellissimo, vi aspettiamo. Venite in Albania. Venite, venite, corrette. Sciporia, un paese così vicino e così lontano. Venite in Albania. 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 Grazie a tutti.